Non trovo il portafoglio. Eh vabbè dai, pago io. Sicura? Sì. Ok, signorina prendo anche il caffè, l'ammazza caffè e il tiramisù che prima non l'ho preso. Paga lei. Grazie eh. Ci prendiamo una pizza? Come vuoi, per me è uguale amore. Preferisci la carne? Come vuoi, per me è uguale amore. Prendile una decisione. Come vuoi, per me è uguale amore. Oddio non ti sopporto quando fai così, ti giuro, ti giuro che vado col primo che capita. Come vuoi, per me è uguale amore. Scusi, che ore sono? Come vuoi, per me è uguale amore. Carino questo posto. Sono contento che ti piaccia. No, sei uguale. A chi? Tomb Raider. Ah! No, sei uguale. A chi? Alla McRyan. Quando finge l'orgasmo in Harry ti presento Sally. Adesso sei uguale a Rapunzel quando si tocca la treccia. No, sei uguale a Psycho. Adesso sei uguale a Keanu Reeves quando beve nell'avvocato del diavolo. Lo sai che anche tu sei uguale? A chi? A un coglione. Sì, ma di quale film? Pronto Simone Carlo, dimmi, vado di fretta. Sì, 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 sarò velocissimo. Senti, lei sta arrivando e io ho qui pronti i panini. La sandwich gourmet, Simone. Sì, sì, quelli da gourmet, gourmet, sì. Hai messo gli omelette? La che? La frittata, Simone, la frittata. Ah, sì, la frittata, sta qua, sì. Hai messo anche le tomate cereese. Che? O le pomodorini. E chiamare i pomodorini, no? Io non posso chiamare i pomodorini perché sono uno chef di grande classe. È vero, te sei il miglior chef che io conosca. Bene, adesso metti tutto, tutto in due belle baguette. Ma come baguette? Io ho preso le rosette. Non puoi prendere le rosette, Simone? Rovini così il mio sandwich di grande classe. Ho capito, baguette e rosette è sempre pane, no? No, Simone, non bestemmiare. Senti, che faccio adesso? Rimangio lo stesso. E ce li hai 30 euro? Eh, sì, ce l'ho 30 euro. Perché? Che devo fa? La puoi portare in una bella trattoria. Sei un genio, un genio. Ma qual è un genio, Simone? Ma va a fan... Sì, genio. Ma chissà che tipo è questa. Oh, che fai? Sali o fai la muffa? Camionisti in trattoria. Da giovedì 10 maggio alle 21.25 su T-Max. Canale 52.